In collaborazione con Glam Vision e K. Fakli. Maltempo. Violenta grandinata sul Trentino. Dalla Valdinon alla Piana Rotaliana colpite diverse aree del territorio. A Trento ci allaga l'Istituto Professionale Pertini. Provinciali 2023. Dopo Dalla Piccola anche De Magri e Stanchina guardano alla futura coalizione che sfiderà Fugatti. Fratelli d'Italia intanto chiama gli alleati. Chiediamo chiarezza. Covid giornata difficile in Trentino. Due morti e un tampone su quattro. È risultato positivo. Oltre il 2000 i casi attivi. Sei un lavoratore autonomo o hai una piccola impresa? Scadenze fiscali, novità normative, fatture e versamenti. Sono molte le cose che possono farti girare la testa e perdere tempo. Non rischiare. K. Fakli ti dà una mano ed è pronto a risolvere ogni tuo dubbio. Grazie ad operatori esperti e con tariffe contenute avrai una consulenza completa anche nelle fasi iniziali. Scadenze fiscali e previdenziali rispettate. Uno strumento per la fatturazione elettronica. Servizi anche online e a distanza. Contabilità sotto controllo ma senza stress? Si può con K. Fakli. Grazie a tutti. Grazie a tutti.